Una delle motivazioni per cui ci trattano in questa maniera è che noi abbiamo tra le mani 44.500 giovani e questi loro non li possono più toccare, non possono raccontargli che la violenza è l'unico sistema per vivere, noi praticamente stiamo facendo quello che gli altri odiano che noi facciamo, lavoriamo con tutti per cercare di smascherare e di far cadere tutti i punti di odio e di violenza che ci possono essere. È impossibile che le suore abbiano avuto solamente l'idea di vedere una cosa del genere, di pensare, di denunciarlo eccetera, perché non esiste, questo scherzo è stato montato veramente in di una maniera troppo furba.